Ehi, sono visto giocando ragionando, ho visto un po' che aveva fatto una voce come un grande Proprio anche perché non ti piace, allora ho messo questo ruchetto E per adesso è così Fausto, oggi mi vuole, Fausto, Fausto Le mani, eh, ma c'è la cattiva circolazione Si usa da ecce, o se no, o va, o stupere Tipo, c'è, però non ho già scherzato, c'è, scherzo Quando giocavo, andavo a mettere i piedi lì dentro le salle E arriva il cannoniere, quando tira il rigore, fa tremare il portiere, scoppigno allenatore, fa tremare il portiere, quando tira il rigore, colpi bravo Ero gli anni, ricoprendo, del rock e roll vicinato, comunque nel 88, questo periodo, non lo sai perché, vicino, vicino di casa, capito, quegli anni, aveva un anno di doro, guarda Ma provate, non è che mi dirà, ti fa lo stesso per la giannese Se la vede vicina a te, e magari la fanno Fausto 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 Sì Massimo, che è che ha diventato questo poeta? Da Da Certo Ha diventato da Sì Avete visto un po' dimagrito Grazie a voi Ciao a tutti Buona serata Ciao Io ci sono Grazie Sessi de santus paraugi Fausto